Il nuovo prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, si presenta, subentra ad Antonio Corona che rivestirà l'incarico a Forlì Cesena. Barbato è nato ad Aversa, in provincia di Caserta, nel 1956 ha due figli. Dopo gli studi classici si è laureato in giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli. Il nuovo prefetto di Chieti ha maturato notevole esperienza, girando tutta Italia e rivestendo anche il ruolo di commissario prefettizio. E i nostri microfoni ha detto di avere molta curiosità per l'Abruzzo, in particolare per la provincia di Chieti, e che non sarà un prefetto di scrivania ma, assicurato, scenderà tra la gente. Dopo aver incontrato ieri le autorità e le forze dell'ordine, questa mattina ha voluto presentarsi ai giornalisti. Spero da parte mia la massima disponibilità, oltre che da parte dei colleghi dell'ufficio, che questo è un discorso risaputo sul piano personale, la massima disponibilità. Proprio per la curiosità e la vastità e la differenziazione del territorio che dicevamo prima, è mia intenzione conoscerlo e recarmi personalmente a visitare i comuni, perché credo che le istituzioni, essendo il prefetto il rappresentante del governo sul territorio, le istituzioni si debbano avvicinare attraverso le istituzioni territoriali ai cittadini e quindi si debbano muovere dalle loro scrivanie e debbano uscire fuori. Peraltro, come avrà visto nel mio curriculum, negli ultimi anni ho fatto, più che il prefetto, ho fatto soprattutto l'amministratore, ho fatto il commissario straordinario, in territori con certe complessità e criticità. Quindi diciamo che ho una certa esperienza proprio sul territorio, che è paragonabile a quella degli amici sindaci. Quindi sono molto vicino e sento molto i problemi proprio del front office. Cerca la sicurezza, in particolare nelle aree del Vastese, dove più volte la criminalità organizzata ha tentato di infiltrarsi tentativi sventati dalle forze dell'ordine. Certo, ho avuto già la possibilità di conoscere il questore, i comandanti provinciali, di Carabinieri, Guardia di Finanza, quindi mi hanno già informato su quella che è la situazione e loro sono attenti ed operativi. Come si dice, sono già sul pezzo, quindi non è che aspettano il nuovo prefetto di Chiedi assolutamente. Da parte mia, anche in quel campo dove avrà visto una certa esperienza, sono naturalmente a disposizione. Grazie.